Ciao a tutti, benvenuti nel speciale 50k di Twitch. Prima di lasciarvi al video, vi volevo rubare giusto 10 secondi per ringraziarvi di tutto quello che stiamo creando e di tutto il supporto che mi date tutti i giorni. Grazie, grazie mille. Mh, com'è buono il microfono! No, raga, però sono sfigato! Ave Maria! No, 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 io non rubo le kill! Sfondo, 53 nel shop, lasciatelo o devo fare... Ecco a voi la storia di come Rekings ha conosciuto Federica e si è innamorato di lei, raccontata da Gennaro. Ho trovato una persona meravigliosa, ma... una persona che mi è riuscita a tirare fuori il meglio di me. E da lì ho conosciuto anche il stesso femminile, se credevo fosse una leggenda. Invece... invece esiste. Vi ricordo, ragazzi, credete sempre in voi, tutti abbiamo una Federica. No, ma sembra brutto, sembra la mano! Ecco a voi come raccogliere il loot. Brutto il cazzo, prima mi ha seguito per... Vai! Posso farlo! Ma si è buggato perché è morto in Arno, giustamente direi. Oh, lì c'è uno, ok. Posso farlo? Ogni giorno è una festa sotto casa di Rekings, scoprite il perché. No, no, raga, no, raga, è bot, dai, ma non ci capisco un cazzo per mezz'ora, perché fa ogni sera dove uno spara si cazzo di po'. Madonna mia! Ma perché si sente sto bordello fuori casa di Rekings? Ogni giorno è matrimonio. Ogni giorno è matrimonio, che pazzo. Ragazzi, lo sapevate anche voi che hanno messo Super Mario Bros su Fortnite? No! Anzi, io dopo questo me ne vado. Però ho fatto la sfida a tempo, per favore. No, per favore, non gliela farò più leggere, lascio. I thought it meant gay, perché... Mierda. Tobe, continui, 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 continui... Eh, vabbè, mi scoccio, io, io, vabbè, gno, 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 gno. Revive me, please. Oh, no, no, no. And keep this. Managgio, addio? Guys, I don't know, I don't know. Wait, wait. Tutto, tutto è italiano No, per favore Non posso esplendere Grazie per i seguimenti Grazie per i seguimenti Grazie a tutti i seguimenti Napoletano di merda Orologi Orologi? Orologi 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 Orologi